Un interessante appuntamento inerente agli scavi che alcuni archeologi dell'Università di Foggia e del Davison College del North Carolina hanno effettuato nei mesi scorsi nella Salapia Romana alla confine tra Cirignola e Trinitapoli. Di questo si parlerà in un importante appuntamento dal titolo Salapia, storie e suggestioni che si interrà nella Sella Consigliere di Palazzo di Città a Cirignola del Volgiano venerdì prossimo alle ore 10.30. Un evento che è stato realizzato dall'amministrazione comunale opantina di concerto con quella di Trinitapoli insieme all'Università di Foggia e la competente sovrintendenza di Taranto che ha coordinato questi scavi in cui sono emerse da parte degli archeologi delle ininteressanti novità e che proprio in questo convegno saranno illustrate.